È la Luna che orbita intorno alla Terra. Un ritratto di casa scattato da Marte a una distanza di 300 milioni di chilometri. Si tratta di una sequenza di immagini con un valore più romantico che scientifico ad opera di Mars Express, la sonda ESA lanciata 20 anni fa per studiare il pianeta rosso. Proprio per celebrare la ricorrenza, il team scientifico ha voluto riprendere un puntino bianco che orbita attorno a uno più grande, per rievocare la famosa immagine The Pale Blue Dot, il puntino sul quale ci sono tutti coloro che amate, scattata dal Voyager 1 nel 1990. I membri del team di Mars Express hanno così ricordato la celebre riflessione di Carl Sagan, più attuale che mai, in cui l'astronomo esortava a preservare e proteggere con responsabilità e gentilezza gli uni verso gli altri, quel pallido puntino blu, un minuscolo granello di polvere sospeso in un raggio di sole, l'unica casa che abbiamo mai conosciuto. Per celebrare due decenni di Mars Express è stata organizzata una diretta da Marte, e quindi unica nel suo genere, dove una camera a bordo della sonda ESA puntava sulla Terra e un'altra sul pianeta rosso. Ricordiamo che la prima immagine della missione, scattata a 8 milioni di chilometri lungo il viaggio verso Marte, fu proprio la coppia Terra-Luna.